eccoci qui avete visto l'intro una sorta di intro che ho fatto e ieri mi è stato segnalato un gioco ovvero avenging spirit gioco che io non avevo mai giocato prima niente l'ho provato oggi l'ho giocato l'ho finito ovviamente perdendo una caterva di crediti devo dire che non mi dispiace tutto del tutto come sempre adesso vi lascio il gameplay prima però di arrivare gameplay vi invito a mettere un bel like iscrivervi qui sotto al canale ed attivare la campanellina andiamo bene bene eccoci trovati nuovamente siamo davanti a avenging spirit gioco al quale non ho mai giocato schiacciamo start vediamo che roba è i call you here non ho veramente idea di che gioco sia di cosa bisogna fare qua c'è una ragazza che viene rapita suppongo la mia energia è limitata ma mi devi salvare sarà da mio papà qualcosa del genere ok mi sono reincarnato in quest va bene stage one andiamo andiamo vediamo di cosa si tratta salta e spalla sempre i soliti due pulsantini al tempo facciamo una strage devo prendere tre chiavi non lo so non ci vedo tutto tutta sta grande difficoltà almeno al momento sarà proprio questo il primo livello può essere questo secondo questo mi faccio saltare un po' ciò ho grandissima cessa no andiamo allora posso qua ok energy boss quindi bonus i discovered the map in the pile of cars andiamo avanti stage two vi ripeto non ho veramente la più fallita idea di cosa sia questo gioco mai giocato in vita mia mi è stato consigliato da più parti e io come sempre dico va bene ah ora mi sono reincarnato in questa tizia pensa che bellino praticamente il potere di rincarnazione questa 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 però mi devo incarnare di nuovo ah mi posso reincarnare in ciò che voglio benissimo l'energia è pochina faccio facciamo attenzione non ho capito sono morto perfetto perfetto cosa è questa cosa è questa cosa è questa cosa è questa cosa andiamo se lo prenderete veramente in giro perchè non lo conoscevo loro ma mi sono andato sì ma mi sono andato a vedere l'esistenza di questo gioco sono entrati con il suo gioco c'è la chiave, bene quindi devo uscire di nuovo, ho preso la chiave e basta, benissimo, ho perso, eh ma si potrà continuare? certo, ne prendo per qualsiasi numero questi passi scatenati, non ho idea di come lo sto facendo, andiamo, go, vediamo dove sono, secondo te lo uccide questa volta, senza che mi uccide bene perché poi il punto è questo, sarò molto più bravo a perdere che a giocare ok, a punto quale l'abbiamo ucciso anche questo, bonus quello che è, quindi siamo a, andiamo avanti, stage, qui, c'è dei salti che fa questo, è che ha tantissimo, ah, mi piaceva il discorso che faceva salto assurdo, adesso mi stanno rompendo un po' con, tanto basta diciamo, ninja, ho perso, ah, non ho perso con un ninja, mi piace il ninja, è che piccoletto, è perso, ma lo ultimiamo subito, certo, cioè mi sono rinternato, è questa qua che lancia molto utile come cosa, mi sono rinternato, è qualcosa di meglio, di più, no, con le palle di re, pensa tu dove cazzo deve andare con le palle di re, e dai, e dai, spalami, ma credina, oh, prendi il ninja, vedi il ninja, Oh, non guarda, ah, non guarda, ah, non guarda, non guarda, non ho capito, ma scendo i campi da andare con le palle, però guarda c'è.. dai però va, non si può accampare così però mi devo reincarnare questa è massiccia, scendiamo è un ninja che c'è è tanta draga stiamo andando, stiamo andando andiamo ok questo ne vi è anche andato bonus quello che è ma non lo conoscevo questo gioco signori veramente it's look like i can go into this base from the ground stage 4, quanti stage ci saranno e chi lo sa mai allora l'idea non è vantaggio perchè comunque dal fatto di poter trasformare tutti i nemici è bellino sì, certo, è una gran bella ritenuzza però v, non lo so non mi sta entusiasmando c'è qualcuno più intelligente qui da trasformarsi anziché questa qua magari un po' più guerrato andare ok facciamo un po' continuiamo ma davvero io questo gioco comunque non l'avevo mai visto prima mi sembra strano ma mi sembra strano ma non ho proprio idea qui lì quindi mi sembra mi sembra mi sembra che ok anche questa è andata molto bene bonus o34 viene qualcosa ma non ho capito quanti livelli ha sto gioco cosa devo fare stage 5 andiamo sopra queste lingue io preferisco ma anche questo non è malaccio che spara sta roba qua andiamo fatto sta che ho preso una sola chiave e lì me ne risultano tre io sto camminando in testa quindi devo andare solo suppongo suppongo che qua posso trovare l'energia potere zero quindi dobbiamo andare sopra andiamo ok continuiamo in testa e poi il piccolo buddha fa niente e io vado dritto questo è un errore ma ma pensa questo gran bastardo anche qua due scelte andiamo sotto di nuovo mi piace più la ragazzetta sinceramente il draghetto anche se non è tutta sta gran cosa questo non c'è fa ma non c'è muore andiamo col draghetto ma può essere inutile qua dobbiamo uscire forse andare sopra giusto no quando andavo bisogna trovare il soldo lo devo fare ma non c'è niente insatto mi sale lo stesso e quelli che devo fare non c'è la volta non l'ho vista io vabbè ok 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 andiamo sopra e sotto al solito partiamo sotto ma non so quello che sto facendo ma so quello che sto facendo ho detto con i vanni di un nudge è già fatto? bonus quant'è la nostra gioco? hai una strong premunition detto che voli sia vabbè se è qua stai g6 dovrebbe essere l'ultimo vediamo tu hai una strong premunition la cosa bella è che non so neanche dove deve andare perché non sto incontrando nessuno in cui vi posso reincarnare a parte queste quattro ragazzette non sono malvagce va bene ho diverso eh che Kaiser saliamo come si salve? non lo so stiamo provando eh che palle vabbè vabbè non lo so andare come c'è qualcuno non so rincarcare qualcosa di più simpatico e carino stiamo andando il raghetto che giustamente mi incula abbiamo perso però mi piaceva il ninja mi sembra più più cazzuto rispetto agli altri vediamo forse rende che succede boh non mi fa stare non mi fa stare la stiamo la il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Siamo reincarnati in questo vizio che sta salendo come non mai e io non so praticamente dove cazzo per andare, sto provando, non so come andare da qualche parte, non lo tiro, no, 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 no. Andiamo, stiamo andando, basta di avere dove sono. Andiamo. Ma. Ma. No, scendiamo. No. No. No, no, no. con buccia Chi cazzo lo dino 20 crediti sono per finire con queste cose? Vediamo che succede adesso, bonus, quindi c'è una specie di esplosione I want the girl to escape, I hope so. Eh? E quindi? Event out, I feel, I'm sorry, I'm sorry Ma non ho capito, non l'ho finito, non ho recuperato le tre chiavi, cosa succede in questo gioco? Non lo so, sembrerebbe essere finito, dico io non lo conosco, ma forse non ho recuperato tutte le chiavi e quindi l'ho finito in malo modo Boh, sto continuando a guardare questa fine ma non ne capisco, non capisco se è finito o meno Sembrerebbe di sì, ma niente signori, il gioco è finito Sono rimasto molto nell'aria Comunque, come sempre volevo ricordarvi di mettere un like, iscrivervi al canale, iscrivetevi Ed attivare la campanellina Niente, sono rimasto un po' nell'aria, alla prossima, ciao ciao Ciao